Il sindaco del Ghingaro dovrebbe ricevere veramente i cittadini, io l'ho fermato anche un anno fa qua fuori, non mi ha neanche ascoltato, dovrebbe andare a casino lui e tutte le assistenti sociali. Ho aspettato il sindaco qui fuori e mi ha detto io non me ne occupo, se ne occupo all'ufficio casa, sindaco e vice sindaco c'era, non siete qui. Inquilini e sindacalisti in piazza contro gli sfratti e per gridare all'emergenza abitativa. Con l'avvicinarsi dell'inverno il problema è ancora più forte, soprattutto per le fasce sociali più a rischio, dove in molti attendono da troppo tempo una casa popolare. Per qualcuno i tempi si dilatano oltre misura, 30 anni senza tetto e la responsabilità, dicono, è dell'amministrazione comunale, barricata nei suoi uffici e disinteressata al problema. Le famiglie ancora in attesa di un alloggio popolare, spiega il sindacato Sunia, sono ancora tantissime, eppure il comune sembra non accorgersene. Case pubbliche del comune che non vengono assegnate, come quelle di Erpe, non vengono assegnate quando ce ne sono 35-40 vuote. Se fossero messe in condizione di non poter essere assegnate, si può fare l'autorecupero, provvedere a questo, in modo che chi può entrare... Non si fa attendere la risposta da parte del sindaco Giorgio Del Ghingaro, che non usa mezzi termini contro il sindacato. Un tempo glorioso, dice, è oggi ridotto a cavalcare l'emotività dei cittadini, pur di rendersi visibile e dare una ragione di esistenza al proprio gruppo dirigente. Le richieste di esecuzione di sfratto in Toscana, spiega, sono in calo costante dal 2013 e in provincia di Lucca gli sfratti richiesti nel 2017 sono diminuiti dell'11% rispetto all'anno precedente, mentre quelli eseguiti sono passati da 348 a 335, uno ogni 504 famiglie residenti. Se in un comune che dispone di quasi due case popolari per ogni 100 abitanti, conclude il sindaco, ci sono ancora famiglie che non hanno casa, il problema vero non è l'emergenza abitativa, ma i troppi anni di lassismo e di mancata manutenzione del sistema.